Sono venuto a Bari con tanta voglia di fare, sono venuto motivato per riscattarmi di questi 5-6 mesi che tra l'infortunio e poco spazio sono venuto per riscattarmi comunque una piazza, tanta roba e una squadra forte. A Foggia sono stato bene, gli auguro tutto il meglio al Foggia, però la mia testa ora è concentrata qui nel Bari. Ora mi sono ripreso, sono stato fermo, ho lavorato pure nelle vacanze, ora sto bene fisicamente, devo solo riprendere un po' il ritmo dell'allenamento, il ritmo partita. Sono partito da titolare, poi ho avuto problemi fisici che mi hanno tenuto fuori, sono tornato però non sono riuscito mai a ritornare in forma, forse perché mi hanno curato male. Quindi comunque avevo voglia di cambiare e quando ho sentito che c'era l'interesse del Bari ho detto subito di sì per venire qua. Comunque è una grande piazza che ho voglia di riscattare, poi a Foggia penso che il mio percorso era finito. Non sono io che dovrei parlare di me, comunque sono un difensore abbastanza veloce, mi piace giocare la palla, sono uno che mi piace sempre giocare, è un giocatore tosto, fisicamente tosto. L'impatto con la squadra è bene, ragazzi tutti disponibili, ho trovato comunque un grande gruppo di uomini e comunque la squadra è forte, colmise pure subito bene. La città l'ho vista poco però mi sembra comunque una bellissima città, comunque ancora non ho avuto tempo di girarla. Io ero già stato qua a San Nicola con la Salernitana, comunque era il gemellaggio, era comunque pieno lo stadio ma non era così come al derby. Comunque è stata una bellissima partita su tutti i ponti di vista, poi Bari è stato più felice, ha vinto la partita. Cambia gli obiettivi, la voglia di fare bene non cambia perché comunque io sono venuto a Bari per fare bene, per mettermi a disposizione della squadra, a disposizione dei misti e di farmi trovare pronto per comunque raggiungere gli obiettivi.